Forse una realtà del genere, brevemente, se ci puoi raccontare tu visto che la gestione della raccolta rifiuti è praticamente gestita dal comune da voi, o comunque pubblica, c'è un appalto però segue tutta una serie di cose che controllate direttamente voi, mentre da noi c'è un appalto affidato alla Vulti Utility e quindi rientra in tutto, come riuscire a ovviare questo problema? Di subappalti dati o a ditte un po' strane, dove strane sta a spesa, a volte purtroppo per malavita, oppure ditte che sfruttano i lavoratori? Sì, noi non abbiamo una gestione comunale del servizio, un comune piccolo non sarebbe in grado di… noi facciamo degli appalti, delle gare che hanno una loro durata e ci sono delle ditte piuttosto che delle cooperative che vincono. Attualmente Aroncadelle prima era gestita da una ditta privata di un comune qui vicino, adesso è gestita da una cooperativa friulana, mi sembrano persone serie, dal punto di vista dell'efficienza del servizio nulla da dire, né prima né dopo sono mai ricorsi a subappalti, quindi non era consentito questo strumento, il che è già una semplificazione, un elemento positivo perché la catena, come si dice di comando, si accorcia. E' chiaro però che ci vuole un'attenzione anche nei confronti delle ditte che vincono, anche se queste poi non subappaltano il servizio. Per quanto ci riguarda comunque devo dire né prima né adesso ci sono subappalti e quindi un grado di controllo in più l'amministrazione lo fa. Diciamo che c'è un buon rapporto anche per quanto riguarda la segnalazione di persone che hanno bisogno e che cercano e che loro selezionano ovviamente nella libertà della valutazione. Se posso collegarmi a quest'ultima cosa che dicevo per rispondere alla prima domanda che era stata fatta, cioè come siamo messi dal punto di vista dei servizi sociali. Roncadelne è un comune che dal punto di vista dello Stato sociale garantito ai cittadini ha un livello molto ma molto elevato. E' chiaro che la crisi che stiamo attraversando, i tagli che lo Stato e la regione anche in Lombardia, non solo in Emilia, stanno apportando, il patto di stabilità come ciliegina sulla torta stanno creando una serie di complicazioni. Quello che però noi abbiamo fatto in questi ultimi due anni, che sono stati quelli più critici, pur nella esigenza di ridimensionare e tagliare alcuni servizi e alcune cose che si facevano, la scelta precisa è stata quella però di non toccare gli investimenti su scuola, formazione e politiche sociali. Noi abbiamo un bilancio di 7 milioni di euro, bilancio della parte corrente. Per quanto riguarda la scuola spendiamo poco più di un milione di euro, per quanto riguarda le politiche sociali spendiamo un milione e due più o meno. Quindi insomma più di 2 milioni di euro su 7 milioni sono una percentuale non indifferente. E quindi questo sta a significare dell'attenzione che mettiamo, abbiamo messo e intendiamo continuare a mettere su questi temi. E' chiaro però che stiamo anche qui intervenendo in due direzioni. Una è quella di mettere laddove possibile addirittura risorse aggiuntive per supplire ai tagli che stanno arrivando dagli enti superiori. Cioè ci sono alcuni capitoli come l'assistenza persona piuttosto che la non autosufficienza che non sono stati ritoccati, sono stati quasi azzerati. E quindi questi servizi che prima venivano garantiti grazie ai fondi regionali dai piani di zona, che sono piani che raggruppano un certo numero di comuni, oggi questi servizi i piani di zona non sono più in grado di erogarli. E quindi la scelta che i comuni si trovano a fare è o dire cari cittadini, sono finiti i soldi, arrangiatevi. Oppure quella di dire cerchiamo in qualche modo di tagliare il tagliabile, fare magari un taglio in meno dell'erba nei parchi, ma salvaguardare le politiche sociali che secondo me sono un elemento qualificante di attenzione nei confronti in particolar modo di chi è più sfortunato e ha più bisogno. L'altra cosa che stiamo facendo è quella di calibrare un po' meglio l'intervento. Cioè noi, devo dire, i nostri cittadini li avevamo anche un po' viziati, faccio un esempio. I libri triennali della scuola media li fornivamo gratuitamente come parziale sostegno a dei costi che tutti sappiamo essere a volte, soprattutto in questo periodo, esagerati per far studiare i propri figli. L'abbiamo fino adesso garantito a tutti. Ecco, il periodo di difficoltà in cui siamo entrati ci sta imponendo anche qui la selezione. E quindi anche su questo, ho fatto un esempio, ma è un discorso che stiamo diffondendo anche ad altri servizi, saremmo costretti a fare una maggiore selezione e quindi attraverso l'ISI, attraverso un discorso di redditi, andare incontro a chi è effettivamente più bisogno. E quindi questo è un modo di lavorare che salvaguarda l'equità nella consapevolezza che stiamo... Beh, insomma... E lei si alza, si abbassa le medito l'ISI, taglia applicazione per tutti i terreni. No, però il problema è che... Il problema che dobbiamo renderci conto tutti in cui siamo è che se i soldi mancano... Ma se sono applicati a fare gli amministratori, quando lei mi dice non può dire ai cittadini arrangiati, ci toglie la faccia di colore e la conseglie al pretetto, non può dire ai cittadini arrangiati. Infatti, nessuno ha detto, meno tra di noi che... No, ho detto che la scelta che un... Nel momento in cui Stato, ripeto quello che è, nel momento in cui Stato e Regione non tagliano, azzerano determinati finanziamenti che fino a ieri hanno consentito di erogare determinati servizi. Di fronte a questo un'amministrazione ha una dubbio scelta. O dice ai cittadini arrangiatevi, oppure si fa carico, da un lato, di trovare nel proprio bilancio risorse che in qualche modo suppliscano, anche parzialmente se non del tutto, i tagli che abbiamo subito. E dall'altra cerca di perfezionare un pochino i propri interventi. E quindi, se fino adesso sono stati garantiti alcuni interventi universali a tutti i cittadini, la situazione ci impone magari di perfezionare i criteri, i requisiti di intervento e quindi concentrarci su chi ha più bisogno e su chi ha meno. Certo che la soluzione migliore era quella di prima, ma ragazzi bisogna anche tener conto della situazione che stiamo vivendo, che è una situazione di tagli, è una situazione di crisi, che vuol dire meno entrate, è una situazione di patto di stabilità. Permettetemi di dire una cosa su questo. Io sono il sindaco che due anni fa ha inventato, assieme a alcuni miei collaboratori, uno è seduto qui di fronte a me, quell'ordinanza provocatoria sul diritto di morire. Io non so se ve la ricordate. Noi abbiamo un cimitero che ha bisogno di interventi, abbiamo stanziato i soldi per fare questi interventi, il progetto era pronto, il patto di stabilità ci impediva di intervenire, e allora anche qui la soluzione più facile era quella di vietare di morire, che così il problema si sarebbe risolto da solo. Ordinanza provocatoria chiaramente, che ci ha dato anche una certa pubblicità nazionale, ma è azzeccata perché ha consentito di far capire a un numero ampio di persone l'assurdità di un patto che, come si diceva già prima, ti impedisce di spendere le risorse che hai a disposizione. E per quanto ci riguarda c'è un assurdo nell'assurdo, nel senso che il governo nazionale un paio di mesi fa ha individuato i requisiti attraverso i quali individuare la virtuosità o meno dei comuni. Su 8.000 comuni in Italia sono 143 quelli che sono stati considerati virtuosi, il comune di Longavelle è uno di questi 143, il che vuol dire che la nostra gestione del bilancio da anni è sempre stata una gestione corretta, equilibrata, la dimostrazione di questo è che noi in cassa per investimenti abbiamo fermi circa 5 milioni, 6 milioni e mezzo di euro, che per un comune come il nostro sono una bella cifra, per un comune come Parma forse per le dimensioni sarebbe una bella cifretta però insomma per un comune come il nostro 5 e mezzo, 6 milioni e mezzo di euro. Però l'assurdo è averli, averli a disposizione non per servizi, per investimenti e averli bloccati per un patto di stabilità studiato dal ministro Tremonti, perché anche su questo, guardate, credetemi, è bene non generalizzare, non dire che sono tutti uguali, questa è un'invenzione di Tremonti e la stiamo subendo tuttora, un torto ce l'hanno anche gli attuali esponenti del governo che hanno modificato ma non a sufficienza questo patto, però è un assurdo avere le risorse e non poterle spendere, a maggior ragione in un momento di crisi come questo, nel quale anche il minimo investimento sarebbe una goccia importante per far ripartire l'economia, far lavorare imprese, far lavorare dipendenti, lavoratori, famiglie, eccetera, e di conseguenza sarebbero meno ricadute, meno pressione sui servizi sociali dei comuni, insomma un circolo virtuoso che potrebbe ripartire solo sbloccando il patto di stabilità, cosa che non viene fatta perché, adesso non mi dilungo poi, se a qualcuno interessa sono abbastanza preparato, vi dico anche la logica diabolica che ci sta dietro, non viene sbloccato perché? Perché serve per far tornare i conti solo a livello contabile. Se mi date un minuto ve la spiego anche, cioè se dei comuni hanno lì dei soldi accantonati e non possono spenderli, vuol dire che a fine anno hanno un utile tra virgolette, i comuni non possono avere utile, ma hanno un più. Siccome ai fini del patto di stabilità europeo, ciò che conta è il bilancio dello Stato, ma aggregato, Stato, regioni, province, comuni, eccetera, è chiaro che lo Stato a fine anno fa il conteggio di tutto, è allora se i comuni in Italia, come aveva calcolato, solo le 24 ore, hanno accantonato nelle loro casse qualcosa come 40 miliardi di euro, per fare zero, no, nei deficit, per fare zero vuol dire che qualcun altro può permettersi meno 40 miliardi. Allora eccola qui dove è la logica, la logica è compensare i deficit dello Stato con questi utili tra virgolette che vengono imposti ai comuni. La somma più 40, meno 40 fa zero, poi non è mica vero che fa zero perché siamo sempre in deficit, ma prendiamo per buono anche che faccia zero. La somma è zero, ma la somma, e quindi i conti tornano, sì, ma solo dal punto di vista contabile, non dal punto di vista concreto. Dal punto di vista concreto ci sono i comuni che continuano ad avere i loro soldi bloccati e c'è qualcun altro, leggi, lo Stato centrale, che continua ad avere il suo debito che non si risano. Italia i trasferimenti ai comuni, seppur negativi, una loro logica ce l'hanno perché sono meno soldi che lo Stato dai comuni, quindi sono più soldi che tiene a livello centrale e quindi in qualche modo ne ha a disposizione per risanare. Insomma, un senso ce l'ha. Il patto di stabilità invece ha un senso solo dal punto di vista contabile. Mi stupisce come l'Europa abbia creduto a questa versione per anni, poi a un certo punto come quando si mette la polvere sotto il tappeto arriva un bel polpo di vento e via. I primi che sono stati per aria sono stati i greci che hanno fatto una roba simile e subito dopo ci siamo noi. Però, ragazzi, questa è la logica di un modo di governare di quelli che hanno governato fino a un anno fa che non aveva l'obiettivo di risanare per davvero ma aveva l'obiettivo di tirare avanti mettendo in difficoltà comuni virtuosi come il nostro. Grazie. Grazie.